buongiorno buongiorno a tutti amici e amiche mie bentornati bentrovate nel mio canale fantasie di terre allora è da un pochino di tempo che non faccio video tutorial non mi collego e non faccio video in generale perché sono stata impegnata di questo mi perdonerete perché domani e dopo domani parteciperò ai mercatini di primavera e quindi sono stata impegnata a creare delle cose da portare ai mercatini quindi per questo è stata la mia mancanza diciamo sul canale comunque spero di recuperare appena possibile e appena rientrerò alla base quindi iniziamo subito e vi faccio vedere mettetevi comode perché le creazioni sono tante e vi faccio vedere tutto quello che ho creato e che sto portando ai mercatini e quello che ho creato e che invece caricherò nel mio negozio ezi non so se sapete che ho aperto anche il mio negozio ezi e quello che non venderò molto probabilmente lo metterò anche la qualcosina allora iniziamo con le creazioni che sto portando al mercatino e cominciamo con siccome questi mercatini sono a tema primavera ho fatto delle creazioni fiorite allora questo è uno specchietto in resina che io ho realizzato con uno stampo e poi ho decorato con fiori veri inglobati nella resina e questo è lo specchietto eccolo qua è veramente bellino penso che possa piacere di questo qua ho realizzato questo questo è con i fiori come potete vedere poi l'ho confezionato dentro questa scatolina trasparente in questo modo qua e di questo qua ho realizzato questo e un altro che vi faccio vedere subito eccolo qua questo in un altro colore questo l'ho fatto con questa rosellina così ma questo adesivino qua al lato poi ho fatto sempre a tema floreale questa penna eccola qua già bella che confezionata è venuta molto carina veramente l'ho confezionata in questa maniera qua e questi sono le creazioni che ho fatto in resina poi ho fatto i ciondolini che vi faccio vedere subito e ne ho fatti tanti e diversi li ho caricati anche sul mio negozio e allora e iniziamo subito le creazioni sono tante e spero di non perdere molto tempo e allora adesso si sono anche andate a imbrogliare tra loro i cordoncini comunque diamo un attimo se riesco a sbrogliarli e ve li faccio vedere allora si sono proprio belli imbrogliati allora intanto vi faccio vedere questi allora abbiamo questo qua con fimo effetto cuoio ho fatto poi l'ho contornata da questa alcandara questo nastrino di alcandara e ho messo questo cordoncino qua il fiore è un fiore vero secco naturalmente ho fatto in questa versione poi l'ho fatto in questa poi l'ho fatto così che poco poco più grande un'altra versione ancora diciamo poi ora vi faccio vedere questi qua e questi qua sono anche deliziosi io penso come regalo per la festa della mamma con un piccolo diciamo una piccola spesa si può fare una cosa carina per le nostre mamme poi ho fatto questo qua che è carino anche poi ho fatto questo con questa violetta vedete dietro sono così molto carini veramente e poi ho fatto questo qua qua il filo l'ho messo doppio con questa margherita blu e questi sono tutti diciamo i ciondolini che porterò ai mercatini ok tolgo queste vi faccio vedere le altre creazioni dunque ho fatto questi qua che sono molto carini di questi c'è il tutorial sul canale di questi diciamo orecchini cuoricine che saranno molto adatti anche per la festa della mamma e li ho fatti in questa versione in questa versione in questa versione già li ho imbustati e in questa versione poi li ho fatti anche così ed anche così ancora creazioni in primo ho realizzato queste croci che sono veramente carine con queste cucine questi cristalli catenina dorata e l'ho fatta così in questo colore e questo diverso modello coloro quale ma modello diverso e questi diciamo che sono le creazioni che porterò al mercatino un attimo tolgo tutto da qua e vi faccio vedere i ciondoli lunghi che ho realizzato allora ragazzi eccoci qua e intanto vi faccio vedere questo qua che non è lungo ma è un ciondolino corto con questa diciamo queste sono sempre le creazioni che faccio io le basi che faccio io in fimo e poi li realizzo con la tecnica del decoupage questo è un ciondolo molto bello anche questo qua allora come invece collane lunghe io ho realizzato questo qua che è sempre fatto da me questo è fatto doppio vedete ci ho messo il prezzo dietro comunque con collana lunga contornata da cristalli e con questa appena appena e devo dire che queste collane adesso che si avvicina il periodo primavera estivo sono molto adatte questo è il primo poi ho realizzato questo qua con questo sole le ho tutte in mano quindi allora con questo sole sempre nei toni del diciamo verde acqua con questi cristalli nella catena lunga lunga molto bella anche questa stampa con questo sole poi ancora sempre stile siciliano ho fatto questo qua in giallo per chi piace il giallo e il bordeaux molto bella anche questa piastrellina questo dietro è tutto tutto fatto con la foglia in argento sempre con lana lunga contornata in questo caso da cuoricini e pietre in conchiglia molto bello anche questo ancora diciamo ciondolo lungo eccolo qua questo è tutto realizzato da me vedete com'è bello lucido questo è tutto in fimo nei colori del dell'ametista e con questa catena bellissima in alluminio con queste perle in vetro di murano ecco qua questo l'ho realizzato proprio oggi e diciamo che è fresco fresco ed è sempre come questa qua la stampa che vi faccio vedere ma è l'ho fatto montata in maniera diversa con questa goccia e la catena in acciaio l'ho decorata con questi diciamo pietre di perle di fiume e corallo e questo qua ho abbinato anche un bel paio di orecchini eccole qua vedete? molto particolari e semplici nello stesso tempo ok adesso tolgo questi e vi faccio vedere invece le creazioni che ho messo nel mio negozietto Etsy eccoci qua e allora nel mio negozietto Etsy io ho caricato in questo momento potete trovare i ciondoli come quelle che vi ho fatto vedere prima quindi questo questo qua molto carino anche questo gli orecchini che ho fatto a Soutage sono il mio secondo paio e devo dire che sono molto soddisfatta perché devo dire che scusatemi se mi faccio magari i complimenti da solo che da solo non me li faccio mai ma mi sono venuti molto carini e per chi fa Soutage sa quanto lavoro ci vuole in un paio di orecchini del genere dietro me li sono ecco con questa pelle questa finta pelle me li sono definiti in questa maniera e devo dire che come secondo paio non mi sono venuti male le pietre sono degli occhi di gatto e i centrali caboscioni sono un regalo della mia cara amica Gabriella Casano ciao Gabriella hai visto? ti ho mandato la foto degli orecchini come erano venuti tu sei molto brava a fare questo genere di creazione e questi sono anche nel negozio poi ho fatto questi qua che sono solo un semplice assemblaggio e poi sempre questi qua gli orecchini cuore di mamma in questo colore rosso e questa crocetta tutto che troverete sul mio negozio Etsy poi potete trovare anche questi orecchini che è semplice sempre assemblaggio e vedete che sono bellini eccoli qua sono gli orecchini primavera con questa margheritina e questa libellula e questa margheritina e questa perla di fiume veramente deliziosi ok poi come tessitura di perline ho fatto qualche cosa ma proprio piccolina piccolina e questa è la presa da un tutorial che è su un canale che poi magari vi metto non vorrei sbagliare non vorrei sbagliare ma mi sembra che è meri e meri creazioni penso ma comunque non voglio sbagliare vi metterò il link molto più facilmente ho realizzato questi orecchini al lobo che sono molto carini e li ho fatti così poi li ho fatti questi qua più piccolini vedete la differenza è minima però si vede e li ho fatti questi qua l'incastonatura con le 15.0 lei qua le incastona con le 11.0 io per farle diciamo incastonare lo chatone da 8 mm l'ho incastonato con le 15.0 e il fiorellino mi è venuto più piccolino e poi li ho fatti ancora in questo colore qua questi li porterò al mercatino e penso di aver finito tutte le mie creazioni questo è tutto quello che ho realizzato diciamo in tutto questo periodo che sono mancata dal canale e spero che vi piaccia commentate se vi fa piacere mettete un bel like iscrivetevi al canale come avete visto siamo prossimi ai 1000 iscritti e poi vedremo se potremmo realizzare qualche giochino o qualche cosa per divertirci insieme e magari vincere anche qualche cosina ok io adesso vi saluto tutti quanti vi auguro un buon weekend un bacione e un abbraccio ciao ciao ciao